Il premio per il miglior documentario CGL Bergamo del valore di 2000 euro attribuito dal pubblico del Bergamo Film Meeting viene assegnato ex equo a La visita in un jardin secreto di Rene Borrego e No place like home di Emilia Beck. Emilia è qua in sala. Come diceva non se lo aspettava quindi non ha preparato niente, come si vede, è emozionata. Ok, quindi voglio ringraziare l'indie film che ha fatto questo film con me, Kariana Berghe, lei è la produzione. E voglio ringraziare N.R.K. e Priangika, il protagonista del film. E ovviamente l'audienza e tutti. Grazie mille. Vorrei ringraziare la produttrice di questo film e il protagonista di questo film e soprattutto il pubblico che lo ha votato e quindi vi ringrazio veramente tantissimo. Ok, grazie. 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 Grazie.